L'Akregas spedisce all'inferno il Alicata, i bianco-azzurri di Pino Origoli danno il colpo di grazia alla squadra, i Tarcisio Catanesi ormai virtualmente retrocessi in eccellenza. La formazione del patrone Silvio Alessi sbanca l'Aldino Liotta con una super prestazione soprattutto in attacco. Risultato finale 3-0. Ma andiamo con ordine, stadio semi-deserto, trasferta vietata ai tifosi dell'Akregas per motivi di ordine pubblico. Pino Origoli in tribuna perché è squalificato, schiera Valentin, Porta, Parisi e Paladino, Terzini, Vindigna e Chiavolo, difensori centrali. Aprile, Assenzio, Giuffrida, centrocampo, Nicola Arena, Saraniti e Daniel Arena in attacco. Il Alicata risponde con ingrassia tra i pali, poi Franchina, Veronese, Cassaro, Perricone, Provenzano, Dalì, Trofo, Pitarresi, Albeggiane e Floridia. Dirige il derby Capasso di Firenze. Ospiti subito pericolosi al sesto, anticipato l'attaccante Saraniti. Al decimo fratelli Arena confezionano un'interessante azione, tiro di Nicola, palla alta. Il Alicata risponde con Pitarresi. Al tredicesimo il tiro è parato dall'ex giallo-blu Valenti. Al ventesimo l'Akregas passa in vantaggio, Arena manda al barra, Trofo, assist per Assenzio, che non sbaglia. Bianco-azzurri avanti al Dino Liotta. I padroni di casa non riescono ad impensierire la difesa grigentina. Al trentunesimo l'arbitro Capasso assegna una calcio di rigore alla vicecapolista per fallo di mano di Veronese. Lo specialista Nicola Rena supera in grassia ed è 2-0. Al minuto trentaquattro l'Elicata sfiora il gol con il colpo di testa di Cassaro. Al trentanavesimo i giallo-blu non riescono a segnare. Dalì spreca il possibile 2-1. Prima della fine del primo tempo ancora Dalì impegna Valenti. La ripresa si apre con la punizione di Dalì al cinquantacinquesimo. Ancora Dalì al sessantaquattresimo chiama la superparata Valenti. Sessanta secondi dopo l'Akregas chiude i conti. Andrea Saraniti di testa batte in grassia ed è 3-0. Il derby è chiuso. L'Akregas sfiora il poker di rete ancora con Nicola Rena, il migliore in campo, su calcio di punizione. I L'Elicata cercano in insistenza il gol della bandiera che però non arriva per la scarsa vena dei attaccanti. L'Akregas vince e rimane saldamente al secondo posto della Serie D. Il Elicata lascia il campo a testa bassa. La stagione giallo-blu continua ad essere negativa per il triste passato economico. Il futuro però appare rosio, almeno secondo le promesse del patron Giuseppe Deni.